Segretario, il porto di Spezia è sempre stato un piccolo gioiello, pur avendo poche aree è molto efficiente ed è sul piano nazionale uno dei porti migliori, secondo a Genova per il traffico dei container nel Mediterraneo è sempre stato. Oggi c'è una crisi, una crisi che investe il porto soprattutto un 20% in meno in alcuni mesi di quest'anno rispetto allo scorso anno e lei nei giorni scorsi ha lanciato un allarme, un allarme piuttosto pesante perché dice che se non si fanno investimenti il porto rischia di perdere competitività. Perché ha lanciato questo allarme? Perché credo che non abbiamo più tempo da perdere e quindi c'è la necessità di procedere definitivamente agli investimenti per essere competitivi, per mantenere le posizioni che noi abbiamo guadagnato in questi anni. Io non sono particolarmente preoccupato per i volumi, che comunque il problema c'è e va in qualche modo affrontato, ma sono più preoccupato del fatto che dal 97 oggi sono state concordate delle cose che non sono state rispettate e questo immobilismo oggi ce lo ritroviamo sotto forma di perdita di competitività. E quindi credo che sia utile mettere mano a questa cosa. Ecco, come uscire dall'immobilismo allora, Bettalli? Intanto cominciamo a rispettare gli impegni presi col territorio, quindi facendo gli investimenti, garantendo i volumi e garantendo gli livelli occupazionali. Probabilmente non è sufficiente, bisogna anche che ripensiamo al modello organizzativo. Ecco, il primo a lanciare l'allarme però sulla situazione, sul rapporto veramente deteriorato tra il territorio e Conti è stato il sindaco Perachini. Ha cominciato due anni fa e poi ha ripetuto quest'allarme recentemente. Ecco, come si spiega che un sindaco ha le antenne più sensibili di un sindacato come la CGL? Perché è stato sindacalista e quindi insomma la questione di Consci per la seguiva già quando era confederale e nel porto la CGL ha sempre giocato un ruolo da protagonista. Ma voi siete nel comitato portuale o no? Nel comitato portuale c'è, nell'ente di patenariato c'è un rappresentante per ogni organizzazione sindacale, quindi CGL ci è sluggo. Ecco, ma per il terzo bacino, ci sono dei tempi, conoscete i tempi di attuazione del terzo bacino? Io so che dovevano consegnare l'area entro il 31 maggio, alcuni inconvenienti, tra l'altro il problema era la sicurezza del Torrente, ma l'hanno spostata al 31 di giugno, io credo che comunque da massimo alla metà di luglio l'area verrà consegnata a Consci per e dovranno iniziare i lavori. Bene, l'intervista completa a Stefano Metalli, segretario della Filte CGL, questa sera alle 21.30. Grazie a tutti.